Ciao ragazzi, bentornati nel diario di bordo Siamo qui a svolgere della burocrazia Cos'è che volevo dire? Me lo sono scordato Ah ecco, ieri c'è arrivata la PEC della conferma del progetto E quindi la società ventitresima strata film SRL nascerà a breve E mi sa che comunque i dia di bordo di duemila passi li farò iniziare da questi giorni qua Non dalle prove eccetera eccetera Quelli verranno dopo anche perché anche se sono stati prima li metterò dopo Anche perché così la narrazione è più conseguenziale E siccome questa è ancora fase organizzativa mettiamo magari tutta la fase organizzativa Assieme e poi metteremo tutta la fase artistica assieme Comunque la novità è non si sa Ah beh sì l'abbiamo raccontato il fatto che ci stiamo spostando Ancora non sappiamo dove Stiamo valutando fra tre studi possibili Ehm Niente Tutto procede Pantarei Pantaloni Parli sbagliare una macchina E' davanti suon Un perro Una marea Una marea Che fai L'hai Vitas mantellamente Ti stiamo salvando perchè stiamo leggeri Vabbè è un po' vecchiotta Ok adesso pure io Ci vediamo Aspetta ok Ehi Cheee Eeeh Rompigli Non lo so fare va non lo voglio rompere fammi vedere come si fa E tieni riprendi Come hai fatto? Ah no cioè facile Ma no Eh ora devi arrivare qua Vabbè Tu adesso ci vasca Adesso ti riprendo pure in faccia Ehm Mi andiamo a fare faccia di cazzo Questa c'ho Guarda pure la barba corta Non ti devi tagliare la barba Come facciamo? Ieri ero al punto di tagliarmela Eh? Ho detto vabbè per ora non la lascio corta Ci sono le serate latine Appena C'è un momento più di niente La taglio Oggi se la fanno Oggi se la fanno Oggi se la fanno Se non giove Oggi se la fanno Se non giove Ma sbontare basta Mi metti a cazzo Ma le metto lì Poi le metto lì Poi le metti a cazzo Poi le metto lì Io sono una macchina da sbontaggio in questo momento Se mi devo mettere a sistemare la sbontiamo più No ma ci devi pensare prima Sto smontando questo Dove le metto? Ma ti ho detto scatola lampadine? Quale è? Ho detto Il problema è nelle tue orecchie Vocca ma tosca Ma che riesce sto coso? Ah era così L'ho rotto No Assolutamente Ma già nel video del mese Forse si era visto che stavamo traslonando Non lo so Guardi si Nel mio si Nel tuo E sei fermo da maggio Siamo a luglio Aprile Sono fermo Eh devi fare maggio e giugno E luglio Mi faccio tutti in una volta Vieni Ah no no Ciao raga Stiamo smontando lo studio Ormai mancano le ultime cose Più Di due settimane Che sistemiamo e smontiamo tutto Impianto elettrico Già sotto tutto fatto Stiamo facendo qua sopra Dopodichè abbiamo fatto vari scatoloni Con tutta la roba Per chi di voi ha visto tutti gli altri video Sapeva più o meno com'era qua sopra Adesso è tutto smontato Scatolo Non ti per il traslodo Poi chi si ruba il rame Si può fare i vacanze Vedete attenzione No, non lo so Non è ancora visto i tubi Guarda i tubi sta sotto Non le ne voglio Sotto i divano Sotto i divano Mettemelo i tubi Non la voglio mettere i tubi Mi ringrazio bene E non mi può portare uno mamma mia commesso le quinte sai cosa rossa no? le quinte si sono chiuranni di noce non ti sono chiudere non ti sono chiudere non ti sono chiudere il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti.